Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale Oggi ragazzi faremmo, cioè porteremo per la prima volta nel canale un parkour Allora è un parkour semplice, farò seconda e se ce n'è bisogno terza parte Perché io sono molto bravo nel parkour con alcuni salti sbaglio Però vabbè, fatemi disattivare la chat perché ci saranno molte volte che io morirò Quindi mi darà fastidio la chat Anche se sono bravo, cioè non vuol dire che dei salti li riesco a fare Devo prendere l'aria in corsa Ok, è uscito questo qua Ok Eh raga, vi dico che mi dovrete supportare perché Quando faccio i parkour difficili Faccio dei versi, quindi Se tipo farò Sono i versi perché Ok, vedete Cioè mi vengono spontaneamente Ok Questo parkour easy Adesso proviamo a fare così E no No Ma che cosa consiste questo parkour? Non capisco Ma credo che ci siano dei blocchi invisibili in ogni blocco Perché sarebbe inutile farlo Ok Ma ci sono In quale blocco ci sono i blocchi invisibili? Non capisco Vado su questo qua Eh, vabbè Ovviamente ragazzi non si fa così il parkour Ok Così Così Poi credo che questo qua sia così Poi credo che pure questo qua sia Raga li sto azzeccando Eh vabbè Lo sapevo Dobbiamo vedere Eh vabbè Però Mario Sei stupido allora Ok Raga andatemi a seguire Su Twitch Vi lascio il nome in descrizione Andatemi subito a seguire Che Ogni tanto faccio delle live Ok Adesso Credo che sia Sì Qua per forza Ma Sono io Stupido che non riesco a fare il salto Ovviamente raga Non userò comandi Cioè La game mode Non so se userò la game mode Mario Adesso concentrati Non so se userò la game mode Se ci è Se c'è Proprio un salto difficile Allora ovviamente Userò la game mode Perché Non sono il Pro master Del parkour Eh vabbè Mario però Eh dai Non c'è il pro master Del parkour Ovviamente se Tipo Mi manca il cibo Lo devo per forza Prendere Ok Ma Aspetta Prima non riuscivo a fare Sto salto Ma adesso Perché non lo riesco a fare E vanno lo riesco a fare Allora sono io Sono io Stupido Devo usare le game mode In questo salto Subito Ok Ce l'abbiamo fatta Adesso Proviamo Ad andare Qui Ok Poi adesso No Sono Ok Era dalla Quindi uno qua Uno qua Uno qui Un altro Mi sembra E vabbè Ma Ma che cavolo Cavolacci Non Fallo Non Salto Ok Raga Sto sclerando Sto sclerando Eh vabbè Qua non faccio Nenni il salto Sto sclerando Mario Adesso Impegnati Ok Ok Mario Ce la puoi fare Ok Io ho scelto Il parkour hard Raga Sembra che è facile Ma Non è per Oh mio dio Non è per niente facile Non è Per niente Per niente Per niente facile Soprattutto questi salti Che cosa fa Ti faccio Sono stupido Ok 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 Raga ce la sto facendo Mi sembra No Ok Quello 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 Questo Sì Sì Raga L'ho completato Dopo mille anni Mille anni Sono passati Raga Mi dovete dare Un sacco di supporto Perché Sto sclerando Leggermente Un tantino Ok Doppio salto Ehm Oh Vabbè ma sono Vabbè raga Facciamo il ballettino Perché Se dobbiamo riprendere Ok Fatto il ballettino Ok Di fila Oh E non lo riesco a fare E non lo riesco a fare di fila Vabbè Allora lo faremo Piano piano Ok 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 Va bene Va bene ragazzi Ok Ultimo salto Ok Ok Dobbiamo abbassare le botole Quindi Abbassiamole 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 Ecco qua Perfetto Ok Ragazzi Mi dite Dove trovo Queste mappe Allora C'è un'app Proprio per C'è un'app Con mod Testurpack Che si chiama Addun Addons E È per SOS Apple Android Credo che sia anche per Computer Però io gioco da telefono Quindi Chi gioca da telefono Se lo può scaricare Scrivete nella barra di ricerca Di addun Parkour E vi uscirà No Di parkour Cioè anche questo Comunque ragazzi Non ci distriamo Che Ok Ok Sono un pro Sono un pro raga Sono un pro Sono un pro Oh mio dio No E vabbè però Ah Quanto vuoi usare la game mod qua? Ma dato che io Mantengo Le Pro Messe Non devo usare la game mod Ok 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 Che Ragazzi Sto riuscendo Oh mio dio Ci vuole poco Ok Oh mio dio Ok 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 Mario ce la puoi fare L'ultimo tuo salto Ok Va bene Uno E vabbè Certo 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 Ok Siamo a livello 8 Se non mi sbaglio Sì Ci siamo Arrivati Questo livello Questo livello Io non lo riesco A fare Anche se Sembrerebbe Facile No Ok Quando faccio il salto Mi cifto Prendo la rincolza E E vabbè Ma io avevo fatto il doppio Ragazzi io avevo fatto bene Questo doppio salto Mi devo concentrare Ok 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 ragazzi E va bene Va bene Va bene Raga Adesso starò Zitto per questo parkour Perché mi devo concentrare Quindi Se Non parlo Mi sto concentrando Mannaggia Ok Uno Due Ok Ok Raga Scrivetemi nei commenti Se vi piace L'intro Che l'ho cambiata Che secondo me È molto più bella Mmm Ma Sei Creatore della mappa Ti vorrei uccidere Creatore della mappa Oh mio dio Oh Ma che bello Oh raga Citto Non si può citare Ci sono i blocchi Invisibili Questa mappa È fatta proprio bene Ok 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 raga mi stavo concentrando scusatemi però io mi devo concentrare vabbè ragazzi credo che il parkour si possa fermare farò la seconda parte domani se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale dal vostro Mario173 è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video ciao raga